e anche l'attricesimo sale al cielo l'applauso per la squadra sfortunatissima vittima di un incidente aereo sono caduti in sud america proprio mentre stavano andando a disputare una semifinale di coppa tricesimo contro torviscosa tricesimo che gioca con la maglia bianca e calzoncini azzurri un torviscosa in divisa blu con inserti gialli tutto pronto per partire ringrazio alberto per le immagini e la diretta qui da tricesimo ringrazio emanuele in regia antivari ringrazio che paola che sta curando l'emissione a trieste parte la gara con torviscosa subito in attacco vi do anche le formazioni ufficiali del match torviscosa in porta buso stato inserito quale miglior portiere della selezione dei nostri undici del messaggero veneto che verrà premiata domani sera allo stadio friuli d'alcia arena in occasione della festa per il cento ventennale della formazione bianconera una festa che comprende la partita di campionato contro il bologna il numero due del torviscosa è sannino il numero tre è il classe 97 il fuori quota peloi il numero quattro capitano godeas il numero cinque deana il numero sei candotti il numero sette del piccolo classe 99 il numero 8 è della ricca il numero 9 max lionetti il numero 10 è marangone e il numero 11 saverio cucciardi in panchina con il mister zamano c'è il secondo portiere clocchiatti poi colavetta il classe 97 d'onda classe 98 dubiel il classe il numero 16 romanelli poi puddu e il bomber verrillo che secondo più di qualcuno è dato sul piede di partenza da torviscosa tricesimo invece gioca con caligaro tra i pali pretato col due col tre concina con il quattro il classe 98 barbiero col cinque colavizza al rientro in squadra dopo problemi fisici numero sei favero numero sette capitano di agostini numero 8 bertossio numero 9 balzanano numero 10 ostolidi numero 11 classe 97 guerra a disposizione del mister brutolussi cei sono praticamente tutti fuori quota e quindi il secondo portiere devetti poi castorina zuliani cudicio condolo nardini l'unico non fuori quota nella panchina dei tre semani e rossi col numero 17 in attacco torviscosa ma del piccolo non riesce a far filtrare il pallone allora c'è la ripartenza del tricesimo guerra lavora un pallone sulla destra balzanava a prendere posizione al centro dell'attacco trese mano questo è bertossio che prova duellare con guerra brecche torviscosa lionetti fa salire la squadra il numero 9 c'è comunque su di lui la pressione di bertossio che favorisce il contropiede del tricesimo con balzano che scalda i guantoni di buso al terzo del primo tempo subito un'emozione risponde da campione risponde presente nicolas buso sul destro di controbalzo da parte di balzano calcio d'angolo per il tricesimo favero cross basso sul primo palo battuto male altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa del presidente sorrentino mentre sta continuando entrare gente sulla tribunetta del dello stadio giordano di tricesimo con quella balzano a giro di sinistro sul secondo palo prova ad intervenire guerra viene scavalcato dalla traiettoria del sinistro del giocatore con il numero 6 si ripeterà con invio da fondo campo da parte di buso seguiamo in diretta anche il pordenone che in lega pro ha appena iniziato la sua partita contro il padova mentre c'è il torviscosa in proiezione offensiva il cross di del piccolo viene respinto dalla retroguardia tre semana calcio d'angolo per il torviscosa direttamente in area prova a staccare deana poi il destro di marangone finisce direttamente a morena ampiamente sopra la traversa della polta difesa da calligaro in rivio del portiere del tricesimo pallone che arriva dalle parti di ostolidi poi guerra si impegna sulla destra riesce a vincere il duello in velocità con peloi cross di guerra molto sul portiere buso smanaccia impedendo a de agostini di intervenire adesso però impressione la formazione del mister bottolussi o solidi o solidi o solidi da respiro la manovra servendo sulla destra guerra guerra punta ancora peloi che lo consiglio di girare a largo sempre tricesimo balzano tiro a giro di destro dal limite dell'area respinto da deana ancora tricesimo favero si porta la palla sul sinistro viene atterrato al limite dell'area limite ai 30 metri c'è un calcio di punizione chiamato dal signor bignucolo a disposizione degli stoccatori tresemani sesto del primo settimo del primo tempo sempre zero a zero tricesimo che gioca in maglia bianca con calzoncini blu e torviscosa che gioca in maglia blu scuro con inserti gialli questa è la tredicesima e terz'ultima d'andata del campionato di eccellenza in friuli venezia giulia favero e ostollidi sul punto di battuta favero col sinistro il numero 10 col destro assembramento al limite dell'area buso attento al punto di battuta tendiamo solo il fischio del signor bignucolo favero col sinistro la berta direttamente sulla bandiera sulla barriera poi del piccolo prova a uscire subisce fallo no c'è rimesso l'alterale per il tricesimo basano palla è uscita ma in questo caso c'è invece il calcio di punizione conquistato dal centravanti del tricesimo sempre favero sul punto di battuta si pone Godeas a fare velo il sinistro di favero arriva a centro area prova a intervenire Sannino che ribatte verso il discreto del rigore libera la difesa del torviscosa però molto tricesimo in questo avvio di partita con la vizza non si intende con guerra la palla carambola oltre la linea di fondo campo si riprenderà con il rinvio da parte di Nicolás Buso siamo arrivati all'ottavo minuto del primo tempo vediamo se c'è qualche già già qualche aggiornamento dagli altri campi sì a Noale in serie D il Calvi Noale passato in vantaggio sul Montebelluna su rigore mentre qui il tricesimo gestisce la fase difensiva salutiamo anche la scrutatrice ai seggi più calciofila che c'è vale a dire Ilaria Mastroianni che può nonostante sia impegnata il seggi riesce a seguire l'eccellenza poi daremo anche tutti i risultati dagli altri campi per cui sempre sintonizzati con il calcio in Friuli-Venezia-Giulia e vi ricordo anche l'appuntamento alle ore 18 con Sportlife in diretta dagli studi di Galleria Antivari a Udine con una trasmissione in cui daremo risultati le classifiche i primi commenti parleremo anche del derby di serie A2 maschile di pallacanestro che ieri sera ha visto la vittoria della Alma Trieste al Pallarubini davanti a 7.000 spettatori contro la GSA Udine Godeas Sannino un cross sul primo palo nessun problema per Calligaro che indistrubato si accartoccia in presa bassa e fa ripartire l'azione del tricesimo Sannino scusate, Favero lancia in avanti verso Guerra ma con la difesa del Tolviscosa costringe a largo poi il filtrante verso Balzano da parte di Ostolidi Buso attento esce sui piedi del centravanti Tresemano Leana Candotti avanza l'ex difensore di Triestina e Tamai pallone per Godeas che di sinistro allunga dalle parti di Cucciardi anticipato da Pretato con la trittorviscosa con Godeas in possesso di palla cross al centro lavora il pallone sulla destra del piccolo fronteggiato da Barbiero ticesimo esce dalla fase difensiva con la classe di Favero poi Deana monta in groppa a Balzano comette fallo il numero 5 del Tolviscosa Favero allarga sulla destra per Guerra questo è Bertossio Ostolidi buon lavoro di Pretato il cui passaggio in avanti però verso Ostolidi arriva con quel pizzico di ritardo il numero 10 finisce in fuorigioco vanificando l'azione offensiva dei tre semani siamo arrivati al dodicesimo del primo tempo sempre 0-0 al Giordano di Tolviscosa certamente Ilaria Mastroianni non fa la sultatrice ma è impiegata come forza dell'ordine ovviamente Ilaria giusto per la precisione anche perché se tu fossi sultatrice non credo che si possa avere la tv dentro il seggio mentre le forze dell'ordine pur dovendo tenere tutto sotto controllo almeno possono godersi l'atmosfera nell'anticamera fuori dal seggio questo domenica 4 dicembre qui si vota referendum sulla legge costituzionale Palsano perde palla efficace l'intervento di Cucciardi che favorisce il recupero del possesso da parte del Tolviscosa la cui azione si sviluppa sulla destra San Nino San Nino fosse messo in difficoltà da un rimbalzo beffardo sul terreno di gioco perde palla immediata la ripartenza dell'ettricesimo con Balsano che subisce l'ennesimo fallo sulla trequarti calcio di punizione per i padroni di casa va tutto velocemente Bertossio Bertossio Stolli il sinistro verso Balsano leggermente avanzato il passaggio non era male l'idea pallone però finisce sul fondo certamente in questo quasi quarto d'ora di gioco nel primo tempo più tricesimo che Torviscosa nella molle di gioco prodotta Leana che manca già Candotti Peloi Candotti Torviscosa che ha cambiato allenatore c'è il mister Zamaro sulla panca al posto di Carpin mi pare che lo stile di gioco dei torzuinesi sia comunque quello classico sviluppato in questi ultimi anni da Nicola Carpin poi Zamaro è anche espressione del vivaio tolzuinese quindi la scuola è quella il modus operandi è quello quindi è chiaro che il Torviscosa almeno per queste prime partite a seguito del cambio di allenatore giocherà sempre per lo stesso modo interessante velenoso il passaggio in avanti di Godeas poteva intervenire Lionetti nessuno però è riuscito a centrare il pallone con efficacia alla fine Caligaro mette il pallone in calcio d'angolo battuto non male di più e allora di partenza del tricesimo Guerra anticipa Sannino che però è bravo a rinvenire e a toccare all'indietro verso Buso sul rilancio del portiere era finito in fuorigioco almeno un paio di giocatori torzuinesi quindi si riprende con il calcio di punizione per Favero solita sventagliata su Guerra pretato prova a sfondare sul centrodestra nulla da fare Favero in palleggio elegante ma della Ricca poi alza un campanile sul quale non riesce ad intervenire alcuno degli avanti del Torviscosa Torviscosa che ora prova a uscire dalla pressione operata dai padroni di casa ma alzano non male l'idea verso De Agostini Regli Sannino della Ricca larga sulla sinistra dove Cucciardi prova ad accentrarsi Marangone di tocco verso Lionetti Torviscosa che preme tricesimo tutto arroccato dietro la linea della palla il lancio di Deana verso Cucciardi si pone davanti pretato come Tefallo il numero due intanto a Trieste il San Luigi è passato in vantaggio al quarto d'ora di gioco sull'Union Pasiano segnato ovviamente Mujesan il bomber del San Luigi mentre a Carlino è passato in vantaggio il Carras con un gol di Sgorbissa al decimo del primo tempo e a Tamai invece Nobile ha portato in vantaggio l'Abano Terme quindi è Tamai 0 Abano 1 al quindicesimo calcio di punizione per il Torviscosa parla che scodellata al centro dell'area Calligaro di pugno respinge resta però in pressione il Torviscosa col rilancio di Marangone Favero evita guai peggiori alla retroguardia dei padroni di casa ancora tricesimo e ancora Calligaro in presa alta sulla testa del piccolo Pionetti non si chiude il fraseggio con Godeas break del tricesimo Stolli di Bertossio chiede supporto di Favero in avanti verso Balzano Bertossio anticipato break Torviscosa Godeas Godeas avanza a parapiede Cucciardi servito sulla corsa si accentra numero 11 non sfonda però perché Coravizza fa buona guardia anche se il tricesimo non riesce a concretizzare il possesso palla Marangone che opera da regista centrale da Sannino verso Lionetti Lionetti mette su pallone fa salire la squadra della ricca Peloi della ricca resiste a un paio di contrasti Sanino Marangone Cucciardi manovra avvolgente del Torviscosa Cucciardi chiama in causa Peloi sul quale lavora in fase di copertura guerra spedisce il pallone in fallo laterale siamo al ventesimo del primo tempo sempre 0-0 tra tricesimo e Torviscosa un altro cross facile la parata di Calligaro cambiano ancora un paio di risultati in eccellenza a no uno in eccellenza a Santa Croce passata in vantaggio la Manzanese con Zucchiatti quindi Vesna 0 Manzanese 1 mentre a Pordenone il Torre e il Fiume stanno pareggiando uno a uno segnato il padrone di casa Ruberta al quattordicesimo due minuti dopo Paciulli ha rimesso le cose in parità qui nulla succede la palla è anche uscita dal campo infatti Calligaro richiama l'attenzione dell'assistente si riprenderà con la rimessa da fondo campo da parte del portierone tresemano in seconda categoria a Pocenia è passato in vantaggio il Pertegada quindi è Pocenia 0 Pertegada 1 i miei amici di Pocenia si stanno sempre più preoccupando per le sorti della squadra del presidente Mauro Pretato respinge il pallone oltre la linea laterale si riprende con la rimessa con le mani parte del Torviscosa della ricca però non controlla messo anche in difficoltà da una da un passaggio un po' pretenzioso operato da Peroy Codeas ancora della ricca accerchiato da maglie bianche con la vizza spedisce il pallone dalle parti di Ostolidi poi Marangone prova ad anticipare il giocatore con il numero 10 del tricesimo spedisce un pallone sopra la traversa di Caligaro che comunque stava controllando in tutta tranquillità siamo al ventiduesimo del primo tempo quindi alla metà della prima frazione di gioco ancora praticamente nulla è successo di davvero importante Favero Balzano Marchetta al centro un tiro cross forse più tiro che cross da parte del numero 9 biancazzurro palla finisce addirittura nei pressi della bandierina del calcio d'angolo ci sarà la rimessa da fondo ad opera di Buso l'anno sannino gode as a memoria verso Del Piccolo anticipato ancora da Concina ancora San Nino vince un take in anticipo prova a infilarsi nei pertugi della retroguaglia tre semana, numero due del Torviscosa nulla da fare così come il tentativo di ripaltenza del tricesimo che lucra in ogni caso una rimessa laterale per lo la svirgolata sull'invio da parte di Buso Guerra finisce per le terre nessun irregolarità rilevata dal signore Bignucolo rimessa laterale per i padroni di casa se ne incarica direttamente retato squadre molto corte difficile trovare spazi con la manovra provare a saltare l'uomo per creare sovrannumero con la vizza in anticipo alto break del tricesimo ma il passaggio di De Agostini verso Balsano è in è sbagliato non si sono intesi sui movimenti da fare i due giocatori del mister Bortolussi del piccolo guadagna la rimessa laterale Sanino altro break del tricesimo ma Torvis Cosa si salva Codias che svaria davvero tantissimo non dà mai punti di riferimento il capitano torzuinese a Pordenone il fiume Veneto è passato in vantaggio con Manzato quindi è rimonta da parte dei fiumani che adesso stanno vincendo uno a due sul campo del torre promozione girone A Candotti il lancio verso Cucciardi ma si chiude la difesa di tricesimo Guerra però mette il pallone in fallo laterale Peloi con le mani Cucciardi Peloi Cucciardi il suo passaggio verso Godias è anticipato da Favero Ostolidi Favero buona la transizione del tricesimo tranne il movimento di Balzano che stava arrivando a supporto dei centrocampisti invece di attaccare la profondità è comunque ancora in processo di palla il centravanti trese mano Ostolidi letargico lentissimo il giocatore con numero 10 perde palla ma altrettanto fa della ricca che offre al tricesimo un'altra opportunità offensiva Favero col sinistro verso De Agostini troppo lungo il lancio del centrocampista ex Kras del piccolo del piccolo Godias crossa sotterra sul primo palo Lionetti prova di incrociare la giusta potenza il giusto taglio leggermente alto il destro del centroavanti torzuinese al 27esimo la prima vera azione gol da parte del Torviscosa grazie a tutti grazie a tutti avanza il tricesimo Ostolidi arriva sul fondo opera un cross ribattuto in calcio d'angolo da parte di Deana arriva Favero col suo sinistro telecomandato al tiro della bandierina mentre salgono i saltatori, c'è anche Colavizza a centro area, taglia sul primo palo balzano però Favero batte malissimo il calcio d'angolo, la palla arriva direttamente a Ara dove non c'è il presepe e allora probabilmente la gente andrà a Ara a cercare il pallone della traiettoria di Favero Deana Candotti scende della ricca per l'impostazione davanti alla linea difensiva del Torviscosa poi Guerra a memoria prova a buttare un pallone in avanti ma balzano poco può stretto nella mossa dei due centrali difensivi di Zamaro il mister Zamaro il nuovo allenatore del Torviscosa sostituito Nicola Carpini in settimana questo è un fallo subito ancora da parte di Ostolidi Marangone non è d'accordo il signor Bignucolo però chiama calcio di punizione dall'altro quarti sempre Favero sul punto di battuta Balzano Ostolidi Guerra la finta di Guerra si accentra chiama l'uno due su Bertossio ancora Stolidi Balzano Guerra buona la triangolazione bella l'idea del numero nove interviene Buso a frenare l'azione offensiva dei padroni di casa altro break del Torviscosa Lionetti scavalcato dal pallone che carambola tra i piedi di Favero Balzano Stolidi lanciano avanti su Guerra che scatta con quell'attimo di ritardo che favorisce l'intervento di Buso entrambe le formazioni peccano parecchio in fase di finalizzazione in fase di rifinitura la manovra arriva quasi al limite dell'area certamente sulla tre quarti campo ma la lì poi né tricesimo né Torviscosa riescono a essere efficaci Leana detto il passaggio in profondità del piccolo Deana però tergiversa permettendo agli interditori del tricesimo di respingere quest'attacco della formazione torzuinese ci prova Candotti Peloi e poi un fallo subito da parte del giovane fuori quota classe 97 del Torviscosa che guadagna un calcio di punizione a Santa Croce ha pareggiato il Vesna segnato Marocco Marocco al venticinquesimo quindi Vesna 1 Manzanese 1 mentre anche a San Luigi ha pareggiato l'Union Pasiano con Trevisiol alla mezz'ora San Luigi 1 Trevisiol 1 pareggio anche del Cernis Mustane alla mezz'ora di gioco il bomber Fabro ha rimesso la partita in parità 1-1 tra Cernis Mustane e Kras qui Calligaro esce in presa ma c'era anche il fuorigioco di Lionetti in ogni caso non sarebbe stato valido alcun tipo di azione da parte degli ospiti Favero cambia gioco verso guerra troppo sul portiere Buso interviene e fa ripartire il Torviscosa 32esimo del secondo tempo del primo tempo una prima fazione di gioco che sta viaggiando con marce ridotte poche emozioni tra due squadre che badano a non scoprirsi a non regalare nulla all'avversaria badano fa possesso palla elettricesimo questo è Barbiero attaccato dal del piccolo che guadagna una rimessa laterale già sprecata l'opportunità da parte del Torviscosa Ostolidi del tricesimo il lancio verso Balzano che arriva in vantaggio su Deana Balzano vertice dell'area prova ad accentrarsi da un'occhiata in mezzo un filtrante sul quale c'è il fallo di mano a parte del difensore del Torviscosa che regala un interessante calcio di punizione dai 22 23 metri al tricesimo e gli direi Ostolidi o Balzano col destro mentre Favero col sinistro potrebbe metterla sul primo palo ma Buso sta piazzando la barriera proprio per evitare questo tipo di soluzione poi Buso va a occupare il posto sul palo lontano barriera foltissima Balzano la piazza e Nicola Buso devia in calcio d'angolo padrona che spiove al centro ancora il portiere del Torviscosa blocca in presa poi rilancia in avanti dove Cucciardi non può intervenire a corno di Osazzo Cristofoli anzi no un autogol di Cristofoli ha portato in vantaggio la Virtus Colno sul Tormezzo la mezz'ora Virtus Colno 1 Tormezzo 0 mentre Turea ha portato in vantaggio la Triestina in Serie D nel big match contro il Mestre allo Stadio Rocco e quindi è Triestina 1 Mestre 0 ancora 0-0 invece Padova Pordenone in Lega Pro così come 0-0 sono Fontana Fredda Lumignacco Gemmonese contro Lignano e Itala San Marco contro Chions oltre ovviamente a questa tricesimo Torviscosa che stiamo seguendo in diretta sui teleschermi di Udinese TV Cucciardi c'è San Nino davanti a lui Cucciardi lo salta San Nino lo abbatte calcio di punizione per gli ospiti pretato giustamente pretato grazie numero 2 pretato del tricesimo signor Bignucolo sta fischiando abbastanza almeno in un paio di occasioni mi sarei aspettato anche un cartellino giallo però evidentemente il suo metro arbitrale gli consente di gestire il match con questo tipo di soluzione Torviscosa al calcio di punizione assemblamento in area Gordias batte basso raso terra nessun problema per la elettroguardia tre semana che prova ad uscire Ostolidi su guerra al passaggio mette in fallo laterale Peloi ne approfitta il tricesimo per alzare il proprio baricentro la rimessa di Pretato ma il pallone verso Balzano che gli restituisce la boccia ma gliele incoglie perché capisce tutto il Torviscosa con Gordias che si interstradisce però in un'azione solitaria palla persa per i torzuinesi siamo al trentaseiesimo del primo tempo la rimessa di Pretato verso guerra ha anticipato Candotti spedisce il pallone in avanti Favero di testa poi Bertossio in qualche modo questi Astolidi che in qualche modo riescono a fare possesso palla per il tricesimo Favero con grande classe mette il pallone tra i piedi di Bertossio Black Tresemano Bertossio alza la testa perde però l'attimo buono per servire in avanti i suoi attaccanti Balzano ringhia su di lui Deana Balzano chiama in casa ancora Pretato Bertossio lancio su guerra che era tagliato davanti a Peloi bravo a respingere questo tentativo Lionetti sul quale arriva in addoppio di marcatura con la vizza insieme a Bertossio Cucciardi sterza un paio di volte centralmente su Godeas altro pallone sbagliato da parte del capitano togguinese break tricesimo c'è Balzano che è libero ma Buso giocando da libero aggiunto esce dai pali e anticipa il centro avanti del tricesimo padrone di casa ancora in possesso palla guerra sulla destra Bertossio di tacco su guerra bravo Roberto Guerra accelera salta un paio di avversari entra in area di vigore bravo Deana a costringerlo a girare a largo e poi Godeas ancora memoria verso Lionetti fino a questo punto non ha ancora acceso la luce il capitano del torviscosa Federico Godeas occhio che però anche se sta sbagliando tanti passaggi lui è in grado di inventare calcio e inventare occasioni da gol in qualsiasi momento per cui non mi stupirei se ciò avvenisse bello stop di Bertossio che mette un pallone sui piedi di Balzano leggermente avanzato o pallone leggermente arretrato resta in pressione tricesimo Candotti ancora Ostolidi chiede a Guerra un extra scatto ma Roberto Guerra dice eh ma ho corso fino adesso mi prendo qualche istante di pausa siamo al trentanovesimo del primo tempo altri aggiornamenti dagli altri campi ha pareggiato il Tamai 1-1 grazie a Paradin su calcio di rigore seguiamo questa azione del Tolviscosa Sannino centralmente della ricca sbaglia il passaggio ma ancora Sannino che insiste va al cross sul quale in copertura lavora Barbiero che regala il calcio d'angolo al Tolviscosa allo stadio Rocco di Trieste ha pareggiato il Mestre con Pettalin e allo stadio Giordano di Tricesimo in diretta su DGTV Lionetti sbaglia la direzione del colpo di testa anche se per la seconda volta in questo primo tempo il centroavanti Tolzuinese si era trovato nell'opportunità di stoccare a rete raddoppio del San Luigi sull'Union Pasiano al 39esimo ha segnato Ciliello Pavero Pettato che accelera Stolidi triangolo che non si perfeziona resta per l'impressione il Tricesimo c'è Bertossio Guerra Bertossio la finta del numero 8 poi centralmente nella zona di nessuno Godeas può far ripartire il Tolviscosa un po' che accelera per un'unica ancora Godeas del piccolo Deana d'esperienza sul movimento di Valzano al Simonetti di Gemona Calin ha portato in vantaggio la Gemunese sul Lignano al quarantunesimo, Gemunese 1 Lignano 0 mentre sempre 0-0 tra Padova e Pordenone in Lega Pro Cambia il risultato anche al Tognon di Fontana Fredda con i rossoneri di Padova di casa che grazie a Tuniz sono passati in vantaggio sul Lumignaco al trentaseiesimo con i Tuniz Balzano spizza il pallone sul quale però non riescono a intervenire Ostrolli e Guerra poi Pretato si immola in fase di copertura anticipando Godeas del piccolo cioè al solito Concina anzi Barbiero in copertura su di lui San Nino del piccolo la palla è in fallo laterale partita scopiettante a Pordenone in promozione girone A pareggio del Torre 2-2 il risultato parziale mentre dilaga il San Luigi sull'Union Pasiano a Trieste ha segnato anche Villanovic quindi è San Luigi 3-Union Pasiano 1 Buso e Candotti si passano allegamente pallone Dionetti ottima la spizzata verso Cucciardi Cucciardi si accenda Cucciardi il filtrante verso Codeas che manca l'aggancio con la palla c'era comunque posizione irregolare da parte del capitano tolzuinese segnalata dal assistente del signore Bignucolo Torviscosa pericoloso in fase di ripartenza siamo al 44 sempre 0-0 rilancio di Caligaro dalle parti della ricca poi Favero Bertossio la finta di Bertossio bravo subisce anche fallo il numero 8 del tricesimo sta per scadere il primo tempo non credo che sia necessario alcun recupero perché non ci sono state interruzioni particolari Favero sbaglia il lancio verso Guerra Dionetti prova a far salire il Torviscosa servono pallone sulla destra dove del piccolo vince un contrasto ma nella zona delle operazioni c'è Concina che protegge l'avanzata dei torsulinesi si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Caligaro mancano poco meno di 10 secondi allo scadere del 45esimo neanche un secondo di recupero e quindi finisce il primo tempo al Giordano di 13esimo con i padroni di casa e il Torviscosa che vanno negli spogliettori sul punteggio di 0 a 0 poche emozioni da una parte e dall'altra tutto sommato un pareggio che al momento rispecchia l'andamento della gara io do la linea a Galleria Antivari a Udine Emanuele ti ripasso la linea per il break pubblicitario ci risentiremo tra qualche minuto con i commenti dell'intervallo e con i risultati parziali che ci arrivano dagli altri campi del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia a tra poco e qui sta per cominciare la seconda fazione di gioco tricesimo in maglia bianca con calzoncini azzurri Torviscosa in maglia blu divisa blu con inserti gialli 0 a 0 Torviscosa attacca da destra verso sinistra il tricesimo da nord verso sud come dicono nel campionato carico non vedo sì c'è stato un cambio invece nel Torviscosa è entrato il numero 13 Colavetta al posto di Deana e quindi cambia il centrale difensivo Zamaro manda in campo Colavetta Deana è sotto la doccia nel tricesimo non vedo cambi e quindi 21 giocatori su 22 tra quelli che hanno finito il primo tempo il tricesimo in campo con Caligaro Prettato Concina Barbiero Colavizza De Agostini Bertossio Balzano Ostolidi e Guerra mentre il Torviscosa risponde con Buso Sannino Peloi Godeas Colavetta Candotti del piccolo della ricca Lionetti Malangone e Cucciardi l'arbitro il signor Bignucolo della sezione di Pordenone Carlevalis e Sirbu i suoi assistenti Torviscosa che prova ad uscire dalla fase difensiva anche se il tricesimo resta in pressione i padroni di casa guadagnano la rimessa laterale se ne incarica Barbiero mentre la temperatura si è abbassata Guerra anticipato da Peloi spedisce il padrone in fallo laterale anche perché spaventato dalla presenza del numero 11 in maglia bianca Favero colatricesimo Stollidi a memoria chiede supporto ai suoi centrocampisti ma recupera la palla il Torviscosa ancora Favero ribadisce in avanti poi Candotti anticipa Balzano che si ritrova il padrone tra i piedi fa sedire la squadra numero 9 atterrato senza fallo Breck Torviscosa Codeas avanza palla a piede del capitano Torzuinese poi chiede l'impossibile a Del Piccolo probabilmente neanche Usain Bolt avrebbe preso quel pallone con uno scatto partendo da fermo come ha dovuto fare Del Piccolo si riparte con il rinvio da fondo campo del tricesimo che lavora il pallone sulla destra in avanti verso Ostolidi il lancio di Colavizza Bertossio Ostolidi in avanti tenta l'incrocio su Balzano ancora la difesa del Torviscosa non lascia spazio poi De Agostini quasi vince un impallo la palla però carambola fallo laterale dopo tre minuti del secondo tempo sempre 0-0 guerra il lancio di Pretato su Balzano si coordina colpo di testa disturbato da Colavetta pallone tra i piedi di Favero con Del Piccolo che era scivolato per Tossio fa salire il tricesimo con la vizza e poi Balzano commette fallo in attacco ai danni della Ricca calcio di punizione battuto da Colavetta questi è Candotti il lancio del centrale del Torviscosa in direzione di Lionetti pallone direttamente tra i piedi di Calligaro quinto minuto del secondo tempo ricordo che in Lega Pro il Pordenone è passato in vantaggio a Padova con un gol di Berrettoni al 38esimo del primo tempo il Pordenone capo classifica nel giro del B di Lega Pro a tal proposito vi rammento anche la trasmissione Sport Life speciale Ramarri non da mercoledì pomeriggio nel palinsesto di Udinese TV proprio mercoledì il Pordenone giocherà anche il turno infrasettimanale contro il Ferral Pissalò Balzano Black Tolviscosa Cucciardi non filtra il pallone verso Godeas si ricomincia con Buso ovviamente in settimana oltre al turno infrasettimanale di Lega Pro ci sarà l'8 dicembre anche la semifinale di Coppa Italia Godeas mette un pallone eccellente a disposizione di Cucciardi pretato però coi tempi giusti anticipa l'attaccante Tolzuinese con la Godeas Marangone impressione Tolviscosa tricesimo sotto la linea della palla con la vetta Scodella un pallone in avanti sull'Ioniti Godeas prova a svicolare in mezzo le maglie bianche Favero lancia in avanti non era male l'idea pallone troppo su Buso non poteva intervenire Balzano ancora Tolviscosa in avanti squadre che si stanno un po' allungando e quindi c'è qualche spazio in più a disposizione dei creatori di gioco l'una e dell'altra parte Marangone duetta con Candotti vi dicevamo giovedì ci saranno anche le semifinali della Coppa Italia di eccellenza e di promozione Stolidi De Agostini non passa al tricesimo Buso coi piedi a Carlino Borsetta ha portato in vantaggio Cialis Muzzane quindi è Cialis due Gras uno Favero anticipa Lionetti poi Colavizza perfeziona il disimpegno dell'elettricesimo che adesso prova ad avanzare sulla destra Guerra Guerra punta l'avversario Guerra va via a Peloi arriva sul fondo opera un cross ribattuto da Colavetta in calcio d'angolo arriva Favero a battere il tiro dalla bandierina e salgono tutti i saltatori del tricesimo compreso Colavizza che va a prendere posto lì al centro dell'area difesa da Buso col sinistro Favero sul primo palo ribadisce ancora col sinistro Favero doppio cross poi Guerra prova ad impattare il parlone arriva a Morena dove andranno a recuperarlo qualcuno degli collaboratori del presidente Sorrentino nonno minuto del secondo tempo sempre 0-0 trattricesimo e Tolviscosa Peloi avanti verso Cucciardi spizza su Lionetti Lionetti retrocede a protezione della palla attenzione agli aggiornamenti dagli altri campi al Tognon di Fontana Fredda i rossoneri hanno raddoppiato con Stiso Fontana Fredda 2 Lumignacco 0 al quarto minuto del secondo tempo Stiso mentre Tuniz aveva realizzato il gol dell'1-0 per i rossoneri di Claudio Ottoni a Fagagna invece la Sanvitese è passata in vantaggio con un gol di Rinaldi Candotti dicesimo in processo pallo Stolidi incrocia Balsano preciso il passaggio ancora al centroavanti in maglia bianca che perde un po' l'attimo poi fa partire un sinistro che non prende il giro sperato un paio di metri sull'esterno della porta difesa d'abuso Marangone con la vetta Candotti detta il passaggio in profondità del piccolo non viene servito il numero 7 con un Tolviscosa che perde il possesso regalandolo al 11 di Roberto Bortolussi soldi in palleggio su di lui interviene Della Ricca che lo costringe a girare a largo e il Tolviscosa riguadagna una rimessa laterale Godeas a memoria verso Della Ricca Lionetti al limite dell'area Lionetti Marangone allarga su Peloi c'è Guerra davanti a lui Peloi guadagna l'aldina di fondo poi perde l'attimo e Guerra non solo evita il calcio d'angolo ma riesce anche a passare filtrare il pallone favorendo l'intervento di Bertossio ancora Guerra col sinistro in avanti a Padova ha pareggiato l'undici Patavino con Dettori e quindi è Padova 1 Pordenone 1 mentre a Premariacco il Santa Maria sta vincendo per 2 a 0 sul campo dell'Azzurra vediamo i parziali dagli altri campi mentre Bottolussi ha mandato a scaldarsi praticamente tutta la panchina parziali dagli altri campi Cernese Muzzane classe 2 a 1 Fontana Fredda Lumignacco 2 a 0 Gemonese Lignano 1 a 0 Italo San Marco Chions 0 a 0 seguiamo Guerra che si accenta si porta la palla sul sinistro ci poteva stare anche l'1-2 con Pretato ma Guerra era stato abbattuto al limite dell'area nessun fischio da parte del signor Bignucolo Guerra sradica un pallone dai piedi di Della Ricca poi al pallone sul destro anche questo si spegne ampiamente fuori dallo specchio della porta difesa d'abuso siamo al tredicesimo del secondo tempo vi stavo citando i risultati ricominciamo Cianlis Muzzane Class 2 a 1 parziali tutti Fontana Fredda Lumignacco 2 a 0 Gemonese Lignano 1 a 0 Italo San Marco Chions 0 a 0 San Luigi Union Pasiano 3 a 1 Vesna Manzanese 1 a 1 Virtus Corno Tolmezzo 2 a 0 in serie di Este Cordenons 1 a 0 quindi è passato in vantaggio lunici di casa Tamai Abano 1 a 1 Triestina Mestre 1 a 2 in Lega Pro Padova Polenone 1 a 1 accorcia la distanza l'Union Pasiano con Corazza su rigore San Luigi 3 Union Pasiano 2 Torviscosa guadagna il calcio d'angolo per il buon lavoro nei pressi della bandierina del piccolo arriva Godeas per la battuta veloce pallone al centro libera spazza via Favero resta in pressione la formazione del presidente Milolini il campanile alzato da Colavetta è preda delle lunghe chele di Calligaro con quattro d'ora di gioco Colavetta anticipa Balzano ma è sempre ticesimo in possesso di palla o Stolidi Balzano voleva il filtrante verso guerra anticipato ripalte Torviscosa con Godeas del piccolo incrocia su Cucciardi fa buona guardia pretato guerra la finita su Peloi e questo è un fallo con cartellino giallo sventolato davanti al naso di Peloi bravo guerra a svicolare dalla guardia di rimpettaio col numero 3 in maglia blu quindi al sedicesimo del secondo tempo registriamo Peloi è il primo ammonito della partita calcio di punizione per farvelo favero pallone respinto da Lionetti che dà una mano anche in copertura poi Marangone voleva servire in profondità Cucciardi forse anche a ragione chiedeva una carica subita il giocatore con numero 10 del Torviscosa rimessa laterale per il tricesimo Stolidi De Agostini anticipato da Colavetta fallosamente era entrato sul pallone il centrale difensivo di Zamaro che è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Deana e a lei non è durato poco il pareggio è durato poco invece il pareggio del Padova perché il Pordenone ha di nuovo realizzato con arma abile a deviare un calcio di punizione di Burrai all'ottavo del secondo tempo Padova 1 Pordenone 2 Favero è spinto sul calcio di punizione occhio alla ripartenza del Torviscosa Godias arriva a supporto Marangone sul lato opposto Godias viene abbattuto e questo è un fallo con calcio di punizione ci stava forse un cartellino giallo anche ai danni di Barbiero mentre il signor Bignucolo grazia il giovane classe 98 del ticesimo ha pareggiato intanto in serie di il Cordenone grazie a Maccan su rigore seguiamo il Torviscosa in attacco Cucciardi però combina ben poco Brec ticesimo anche Ostrollidi però arriva fino a tre quarti senza combinare niente e poi Marangone manda un pallone direttamente sulla linea di fondo ancora un gol del Fontana Fredda il bomber Alcantara porta a 3 le realizzazioni dei rossoneri Fontana Fredda 3 Lumignacco 0 mentre al Simonetti di Gemona la Gemonese è raddoppiato con Ursella ora è Gemonese 2 Lignano 0 Ursella nel secondo tempo per i Pedemontani Favero non può servire guerra poi Buso spedisce la boccia dalle parti di Cucciardi ma Pretato anticipa l'attaccante trozoinese Però Però il tocco il tocco è di Pretato per cui il duello l'ha vinto l'attaccante napoletano che favorisce la rimessa laterale per il Tor Viscosa anche se il passaggio in avanti di Godeas finisce direttamente sul fondo siamo al ventesimo del secondo tempo ed è sempre 0 a 0 a Pocenia ha raddoppiato il Pertegada Pocenia 0 Pertegada 2 De Agostini Pallone in fallo laterale sale Sannino per la rimessa con le mani Godeas prova a superare De Agostini che risulta ostacolo insormontabile per il duello tra capitani alla meglio l'esperto fantasista torzuinese eccolo con il pallone tra i piedi Federico Godeas stiamo avvicinando alla metà della seconda frazione di gioco Tricelsimo e Torviscosa stanno giocando a pallatamburello a ping pong in mezzo al campo ma nessuna delle squadre è efficace in fase realizzativa anche così si spiega lo 0-0 inchiodato sul teleschermo di Udinese TV stiamo seguendo in diretta questa partita dal Giordano stadio comunale di Tricesimo campo di casa della formazione del presidente Torrentino tredicesima d'andata tredicesima e terz'ultima d'andata del campionato di eccellenza in Friuli Venezia Giulia pallo subito da Balsano ma San Petricelsimo possesso palla Balsano però è ancora per terra dolorante alla caviglia destra credo il centroavanti trese mano no caviglia sinistra sta zoppicando Balsano Lionetti viene viene abbattuto viene fallosamente e c'è il cartellino giallo sventolato davanti al naso di Pretato autore del fallo su Lionetti sul punto di battuta Cucciardi e Federico Godias uno col destro uno col sinistro mentre si sta scaldando almeno un paio di giocatori del tricesimo Godias col destro direttamente in mano a Calligaro si va Godias e Cucciardi hanno confabondato per un quarto d'ora per decidere tiri tu tiro io tiri tu tiro io alla fine comunque si sono disturbati con i piedi Calligaro spedisce pallone dalle parti di Guerra Balsano nel frattempo ha ripreso la piena funzionalità della caviglia sinistra indolenzita nello scontro precedente o solidi mette giù pallone Favero attaccato da Marangone e c'è anche Godias che non riesce a far filtrare pallone mettendolo a disposizione di Lionetti sempre Torviscosa in pressione ma il pallone verso Del Piccolo finisce in fallo laterale cambio per il Torviscosa uscirà Godias se è corretta la segnalazione si esce il capitano Federico Godias certamente non felicissimo di lasciare il terreno rettangolo di gioco al suo posto a vederlo così sembra Romanelli si è lui teniamo che si giri si è il numero 16 Romanelli nel Torviscosa prende il posto di Federico Godias di Federico Godias ecco Romanelli subito protagonista di un lancio verso Cucciardi pallone al centro si coordina per il tiro di sinistro Lionetti sul quale concina le spinge ma poi anche lì qui pro quo difensivo da parte del tricesimo la prendi tu che la prendo io la palla carambola in rete e dunque al 26esimo del secondo tempo passa in vantaggio il Tolviscosa con un autorete credo quindi cambia il risultato al Giordano di tricesimo Tolviscosa passa in vantaggio onestamente Tolviscosa che non ha fatto granché per guadagnarsi questo questo vantaggio ma bisogna anche dire che il tricesimo di rimpetto non aveva prodotto alcun tipo di pericolo per la porta di Buso e quindi solo con un o colpo di genio o errore particolare si poteva pensare di vedere muoversi il tabellino così è stato tricesimo zero Tolviscosa uno intanto a gradisca è passato in vantaggio il Chions con Urbanetto un Chions che sfrutta anche l'inferiorità numerica della dell'Italia San Marco dal quale è stato espulso Rodic ISM zero Chions uno Dos Santos ha pareggiato i conti allo stadio Rocco ora è Triestina due Mestre due e al Simonetti di Gemona l'ex centravanti del tricesimo Nardi ha realizzato il terzo gol dei Pedemontani che ora conducono tre a zero sul Lignano quindi si stacca se finissero così le partite si stacca il Lumignaco che sta perdendo per tre a zero a Fontana Fredda e sono ora proprio il Fontana Fredda e la Gemonese le principali antagoniste o inseguitrici del Cerni Smulsane che sta vincendo due a uno sul crash Cerni Smulsane capolista Romanelli proprio dal suo piede di Romanelli è partita l'azione che poi in qualche modo ha portato al gol il Torviscosa piccolo sale Sannino per la rimessa laterale del piccolo raddoppiato da Concina e da De Agostini pallone tre piedi di Favero che guadagna con sagace ed esperienza la rimessa laterale guerra fa salire Pretato Pretato si accentra c'è Balzano sul lato opposto tra i piedi di Stolidi che si divincola in mezzo a tre difensori guadagna il calcio di punizione sulla tre quarti Mentre sono felice di annunciare che il Pordenone sta dilagando a Padova ha segnato ancora arma doppietta di arma e quindi è Padova 1 Pordenone 4 mentre c'è un cambio nelle fila del tricesimo anche se c'è da verificare intanto le condizioni di Sannino i giovani tifosi crescono sulle tribune del Giordano intanto si rialza Sannino ma c'è un cambio nel tricesimo esce De Agostini ed entra il numero 16 Condolo classe 98 ex Udinese Vivai Udinese quindi un cambio per parte entrato Condolo che va a prendere il suo posto lì a centrocampo nelle fila del tricesimo il pallone viene restituito dagli ospiti direttamente a disposizione di Calligaro con i piedi l'estremo difensore trese mano con la generoso Balzano ma con la vetta lo anticipa e poi Cucciardi spedisce il pallone in fallo laterale Poi Bertossio non controlla Adesso Torviscosa sta gestendo il ritmo a fote anche del gol del vantaggio sta cercando di tenere il più possibile i trese mani lontani dalla porta di Buso Marangone pallone davanti verso Lionetti ma lì non c'è modo per il centro avanti torsionese di intervenire Favero manda un pallone verso Balzano e poi Buso fa ripartire il Torviscosa altri aggiornamenti altri aggiornamenti a Carlino il Charlize Bussani ha realizzato il terzo gol contro il Kras Charlize Bussani 3 Kras 1 il gol è di Accampola ma le cronache citano soprattutto una azione strepitosa da parte di Osso Armellino e quindi con i suoi con i suoi fenomeni il Cerniz Bussane sta vincendo 3 a 1 contro il Crass Fontana Freda Lumignaco sono 3 a 0 Gemonese Lignano 2 a 0 mentre ha ridotto le distanze il Padova ora siamo 2 a 4 Padova 2 Pordenone 4 nel Pordenone tripletta di arma se ho corretto se ho l'informazione corretta di fare sul tuo altro rilancio di Caligaro verso Balzano adesso è Tolviscosa padrone del campo Cucciardi subisce fallo da parte di Vertossio quindi provo a darvi al trentacinquesimo i parziali dagli altri campi il Friuli Venezia Giulia questo è un fallo di Favelo che sposta Romanelli Charlins 3 Class 1 Fontana Fredda 3 Lumignacco 0 Gemonese 2 Lignano 0 Itala San Marco 0 Chions 1 San Luigi 4 Union Pasiano 2 Vesna 1 Manzanese 1 Virtuscorno 2 Tolmezzo 0 e qui il Tolviscosa sta vincendo 1 a 0 a tricesimo calcio di punizione per Romanelli arriva tutto dalla barriera e poi Peloi spedisce il pallone direttamente cosa c'è da Martinazzo cosa c'è da quelle parti là Urbignacco buia per essere precisi cambio per il trentesimo è uscito il numero 4 Barbiero al suo posto il numero 18 Nardini classe 98 Cucciardi ribadisce in avanti poi Caligaro accelera le operazioni di ripartenza per il trentesimo Pretato avanza palla a piede un'occhiata in avanti solita sventragata verso Balzano ma è proprio Nardini che entra in possesso palla allunga verso Guerra ma capisce tutto ancora Sannino in pressione del trentesimo Balzano Bertossio filtra un pallone in avanti interviene Nardini su Buso Nardini era in posizione irregolare e intanto è ammonito è ammonito Buso intanto ammonito il portiere del trentesimo del terviscoso Abuso che è uscito ma non gli metti il piede in faccia si è fermato il nuovo guarda cosa ha fatto chi è fermato ma gli ha messo il piede in faccia va 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 solo perché per voi se non chiedevate espulsioni ergattoli e quant'altro ormai ormai a Fontana Fredda il Lumignacco ha alzato bandiera bianca doppietta di Alcantara ed è 4 a 0 per il Fontana Fredda sull'undici di Zoratti qui si scaldano gli animi in tribuna sull'intervento di lo scontro tra Buso e Nardini ha avuto l'appeggio l'attaccante tresemano nella circostanza è stato munito Buso ma non credo per l'intervento quanto per le proteste o comunque per qualche parola che è stata detta dopo che si era sviluppato un campanello di giocatori lì attorno a Nardini che comunque fortunatamente si rialza senza troppi problemi anche perché se fosse stato fallo di Buso la munizione sul fallo c'è la calcio di vigore a quel punto invece Buso è stato ammonito per proteste e si riprende in effetti con il calcio di punizione a favore del portiere torzuinese c'è un cambio per il Torviscosa esce Cucciardi è Pudu questo si è Pudu si è stato Pudu al posto di Cucciardi ma se hanno la lavagnetta con i numeri perché non li si è fatti a Pudu con il numero 17 eccolo subito protagonista il neo entrato mentre con la vetta spedisce un pallone in avanti adesso gioca più in fiducia del Torviscosa del piccolo non filtra il pallone verso Romanelli quindi ha già esaurito i tre cambi a sua disposizione il mister Zamaro sono entrati con la vetta all'inizio del secondo tempo e poi Romanelli e Pudu Torviscosa ancora in attacco con Lionetti che protegge la boccia in mezzo a maglie bianche bravo Lionetti partita di grande generosità come altrettanto si può dire di Balzano suo collega suo pariruolo nel tricesimo tanto lavoro per i compagni anche se Lionetti un paio di occasioni nel primo tempo ha avuto modo di essere pericoloso verso la porta di Calligaro adesso il tricesimo che ha fretta di ripartire Concina avanza la palla al piede lancina avanti verso Balzano che spizza facendo proseguire la boccia in direzione di Nardini ancora Concina questi Condolo tricesimo presione offensiva palla che spiove dalle parti di Balzano la spizza in avanti non si intende però con i suoi compagni di reparto e Buso può controllare occhio al Padova che sta provando la rimolta adesso è Padova tre Pordenone quattro mentre il mestre ha di nuovo realizzato il gol del vantaggio quindi Triestina due mestre tre allo stadio Locco se così fosse il mestre andrebbe più sei sulla Triestina se finisse così mettendo una serie ipoteca sulla vittoria di questo campionato anche se è ancora lunghissima e so che movimenti di mercato Trieste parlano di alcuni giocatori di grande livello pronti a vestire l'alabarda a Santa Croce il Vesna ha completato la rimonta ora è Vesna due Manzanese uno ha segnato male a dieci minuti dal termine Nardini Balzano detto al passaggio Balzano in profondità Balzano è eroico San Nino che era ultimo uomo ammonito San Nino mentre Balzano è finito per le terre c'era tanto cuoio sotto la suola della scarpa di San Nino ma l'arbitro signor Bignucolo ha ravvisato il fallo che regala un calcio di punizione al sinistro telecomandato di Favero Buso che conosce i pericoli che possono arrivare dal piede sinistro del numero 6 Tresemano sistema con estrema cura la barriera c'è anche Stollidi sul punto di battuta un paio di giocatori del tricesimo a disturbare la visuale del portiere Tolzuinese sul primo palo ribatte San Nino e questo è il calcio di rigore sì perché la toccata con la mano la toccata con la mano è stato malaccorto San Nino perché la palla stava uscendo era fuori dallo specchio della porta la toccata con la mano qui errore da parte di San Nino e quindi opportunità per il tricesimo di pareggiare affidata al destro di Ostollidi che dal rigore al 44 dal discreto del rigore ha sul piede il pallone dell'1-1 ma dall'altra parte c'è Nicola Sbuso certamente non l'ultimo arrivato tra i portieri in eccellenza fischiare il signor Bignucolo eccolo lì l'avevo detto Buso para e ipnotizza Ostollidi una volta tanto che faccio i complimenti a Portiere prima che questi parli del rigore resta comunque in pressione il tricesimo pallone in area di rigore Nardini lo ribatte in avanti poi c'è un fallo subito la parte di Puddu che offre al Torviscosa l'opportunità di recuperare quarantacinquesimo mancano quindici secondi a scadere del tempo regolamentare a Pocenia di Laga il Torviscosa Pocenia 0 Torviscosa 3 3 Lionetti prova a far proseguire Romanelli ovviamente ovviamente a Pocenia ha segnato il Pertegada non il Torviscosa comincio a patire il freddo siamo qui fermi sulla tribuna del Giordano una temperatura che si è abbassata notevolmente Concina arriva alla Kamikaze a togliere il pallone dai piedi di Lionetti fallo commesso dal numero 3 Teresemano il terzo gol del Padova è dell'ex Pordenonese Mandorlini ma è comunque sempre Padova 3 Pordenone 4 Lionetti prolunga per Puddu che però era in posizione irregolare non molla l'Union Pasiano a Trieste San Luisi 4 Union Pasiano 3 ancora Corazza su rigore siamo al 91 fa velo ormai tutti in avanti per il tricesimo caccia del pareggio Balzano aggancia un pallone a limite dell'area al problema di metterlo per terra Ostolidi Ostolidi il pallone al centro Buso esce sui piedi di Nardini subisce fallo e Nardini viene ammonito per non aver tolto per non aver tolto il piedino 48 tesimo che inizia in questo istante ci saranno 4 minuti di recupero Buso rimane per le terre quindi ci sarà un probabile recupero su recupero da verificare le condizioni del portiere torzuinese autore della parata sul tiro di Ostolidi al dischetto del rigore a Santa Croce a 3 dalla fine Bergamasco ha pareggiato i conti per la Manzanese quindi è Vesna 2 Manzanese quindi il pepe sulla coda di questa giornata di eccellenza in Friuli Venezia Giulia fa velo solita sventagliata in avanti ma ormai con la vetta e Candotti sono insuperabili solito schema ancora Candotti e questi è Del Piccolo che porta in avanti il pallone serve Romanelli sovranumero Romanelli Lionetti centralmente Lionetti Lionetti si mangia uno di quei gol che probabilmente avrei segnato anch'io vuole il calcio d'angolo Lionetti per un probabile tocco di Calligaro non ravvisa la stessa cosa il signor Mignuncolo stiamo per entrare nel quinto minuto di recupero c'è un fallo subito da Marangone è andato per le terre il centrocampista del Torviscosa Buso con i piedi dalle parti di Puddu ancora in avanti il ticesimo Bertossio prolunga su Guerra anticipato da Della Rica con le mani il numero undice del ticesimo Bertossio raddoppiato il giocatore tresemano che però mette un interessante cross al centro verso Balzano ma Buso anticipa il centro avanti tresemano proprio un istante prima il triplice fischio finale del signor Bignucolo che dunque decreta la vittoria esterna del Torviscosa al Giordano di ticesimo su autolete il gol dei Torsuinesi ma penso che al mister Zamano vada comunque bene così l'importante sono i tre punti un tricesimo che ha prodotto parecchio ma in fase realizzativa è stato piuttosto sterile Torviscosa che dunque porta via i tre punti dal campo della formazione del presidente Sorrentino andiamo a vedere gli aggiornamenti dagli altri campi allora vediamo un po' che abbiamo il quarto gol del Cerdismussane quindi è Cerdismussane 4 Kras 1 ha segnato Osso Armellino nei minuti di recupero poi Fontanaferri Alluminaco 4 a 0 doppietta di Alcantara che ha dilagato per i rossoneri Gemonese 3 Lignano 0 Chions vince a Gradisca Itra San Marco 0 Chions 1 San Luisi 4 Union Pasiano 3 ma non è finita Vesna Mazzanese 2 a 2 mentre a Corno la Virtus Corno sta vincendo 2 a 1 Malto il mezzo ha segnato appena qualche minuto fa con Yuri il gol che di mezza lo svantaggio per i Carnici qui da tricesimo direi che possiamo chiudere la diretta le squadre stanno andando negli spogliatoi e con l'inquadratura del campanile della chiesa del centro collinare io ringrazio Alberto per le riprese e la diretta di questo pomeriggio ringrazio Emanuele in regia in Galleria Antivari ringrazio Paola in emissione a Trieste ci risentiamo attorno alle 18 in diretta con Sport Live per tutti i risultati del calcio dilettanti le classifiche i primi commenti le immagini e ovviamente per tornare sul derby di Pallacanestro che ieri ha visto la vittoria dell'Alma Trieste sulla GSA Udine in serie A2 maschile parleremo anche di rugby con gli amici del Rugby Union da Francesco Tonizzo un arrivederci ciao a tutti